Si è svolta il 12 gennaio per il secondo anno l'escursione didattica presso l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate guidata dal referente dell'ufficio area marina protetta del comune di Castellabate che ha accompagnato i partecipanti illustrando le peculiarità naturalistiche dell'area, gli strumenti e le metodologie utilizzate per la sua gestione, conservazione, salvaguardia, tutela e sviluppo. A questa giornata formativa hanno presenziato l'assessore all'area marina protetta Antonio Florio, i presidenti di AS Cilento Sub, Associazioni Pescatori e Archeonautilus che con la loro passione ed edizione per il mare hanno contribuito alla crescita professionale dei futuri esperti ambientali. Ho accolto con grande entusiasmo il programma dell'escursione didattica presso la nostra area marina protetta detto il sindaco di Castellabate Marco Rizzo. Colgo l'occasione per ringraziare per la sua collaborazione la professoressa Di Stefano, presidente della commissione di riserva dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. Dobbiamo solo essere orgogliosi della bellezza del patrimonio naturale in cui abbiamo la fortuna di vivere. Partecipare a questa giornata è stato molto interessante. Tutti dovrebbero essere consapevoli del patrimonio naturale di cui godiamo ogni giorno ha detto l'assessore Antonio Florio. Pertanto abbiamo tutti il dovere di tutelare, salvaguardare, gestire e promuovere lo sviluppo di questa ricchezza naturalistica che ci appartiene.